Allora, dall'ultimo episodio facciamo un recap delle armature perché da un po' che non le faccio vedere molto probabilmente e dell'ultimo episodio, non riesco a più a parlare, ho trovato uno scudo, anche armature uniche, veramente bestiali Certo la rossa, ok, niente di speciale, però almeno divino livello 19, l'elmo Carapace è un po' a livello 18, è un po' adattato, non è il massimo, questo mi dà l'abilità di ristorare dovrei trovarne qualcosa di meglio, soprattutto la cintura, però almeno mi dà 7% di schivata Il set stivale del fedele, movimento questo, l'ammuleto lo cambio quando vado in combattimento con quello unico Rutoma Riveleis, che mi dà uniformare, bestiale uniformare Anello niente di speciale, questo lo cambio, un anello sempre in combattimento Però penso che anche potrei cambiare ormai fra un po' però Un idrosofista, non è neanche male Luronta Temva, non so perché tutte le armature uniche di forza sono bestiali Sono veramente forti sono Superconduttore, fortissimo Poi vabbè, spada unica Uomo d'arme, fa molto danno e basta, mi dà un giocustode in più Quindi risparmio uno slot memoria E questo che è talmente lungo che non si legge nemmeno il nome Ehm, sì Facciamo fare così Unmuffling 5 forze di costruzione, dà tutto sta roba, è rotta 1 polimio, 6 iniziativa, 0-1 movimento Applica il desiderio di morte che aumenti i danni in base alla vita mancante 10% di schivata, 20% di parata I rifletti danni, cioè di scorticare, dà tutto Questo qua dà tutto Babmenza è la roba rotta che ha Ehm, vabbè, l'elmetto Che non so perché non mi applica solo il buff positivo Dovrebbe applicarmi anche a mutolito Quindi non posso usare l'incantesimo Non so perché, in qualche modo l'ho curato E ho un po' rotto il gioco Se adesso toglissi l'elmo e lo remittessi Ritornerebbe a mutolito Quindi non glielo tocco questo finché Potenziato con uno cacciatore E due perseveranza tramite l'artefatto degli eterni Che adesso qua non trovo effettivamente Questo, Maya dell'Opaliscente Ehm, è un po' datata, non è il massimo Questo fa schifo Sti guanti, un po' più indietro Se non devo cambiarli Questo non è male Da un bel po' Baratto, schivata Eh, furto, dovevi vedere con Sibille Scarpe non male Anche questo è livello 19 Quindi buono Livello 18 Non è il massimo Probabilmente i danni con destrezze Cacciatore 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 ma così così Gambale del Merlo Buoni Giusto per avere un po' più di vita È l'arma Destrezze a distanza Non è il massimo Però, livello 18 almeno Lowe's Mi sa che quelli più equipaggiati meglio Sono il Principe Rosso sicuramente Primo Secondo mi sa che è Lowe's Perché si trovano tante armature uniche Per forza, intelligenza, destrezza Destrezze ce ne sono meno Non lo so perché Vabbè, evocatore Che abbiamo evocatori 15 Quindi siamo molto potenti Dovrei cominciare a usarla molto spesso come evocatore Ruvola Ruvola È potentissima Diciannove Trovate nella 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 Cosa di Cam Nella cripta di Cam È da Potentissimo, eh Evocatore più due poi È da tank, eh Mi sa È da tank Questo è il Cavaliere Ammadi È della terzo atto Ok Mi dà un po' tutto Questo 7% di schivata Immunità e scivolamento Io l'ho potenziato io Furtilità D'iniziativa Non è il massimo Per il mago Però almeno Ok Muro vivente Pierucinetta Geomante 5 intelligenza L'unica cosa che è potente 5 intelligenza Vi dà un po' tutto questo Fascia del fedele 2 intelligenza Più ricende Evocatore Buonissime per lei Quanto alune del fedele Quanto alune del fedele 2 intelligenza Ok Da tank Abbiamo 4 pezzi No 3 pezzi 3 pezzi del fedele E l'arma Che potente 3 memore 3 perucinetta Posso usare Posso usare i suoi Suoi cose di fuoco Che ho tolto tutto Qualcosa di fuoco L'elma è quella peggiore E quella vestita peggio di tutti Non riesco a trovare roba per lei Questo è proprio livello 14 Proprio rimasto indietro Niente Anche l'armatura è livello 13 Quindi molto indietro Guanti livello 20 Questi sono molto forti L'unica almeno Compenso Quegli oggetti Roba unica 3 destra 5 memoria Trappianto di pelle forte Per lei Callistase Livello 20 Anche questo Questo è molto Perfetto per lei Questa brigante Fruttività Armatura ok Niente di così così Vabbè le rune Anello Gli anelli sono quelli più deboli per me Questo è un po' da tank Circa Un livello 19 di Pugnale Non è il massimo E questo che è rotto Questa è una Arma rotta per Sibylle 50% di applicare a mutu A magliato Cosa dico Fortissimo Questa roba è fortissima Pensavo che Aru Forse è capo della cattedrale Sui obiettivi sono select Solo Può approcciare Le rimanze del divino Per esempio E' vero che Adalis Venendo a cattedrale Contenendo di entrare Nella tomba di Lucian Chiedi se il martello Ha avuto successo Quando l'avvio è attaccato Abbiamo scelto i pilgrini E i priesti In nostri quarti Tutti hanno survived Sono felice di dire Ma se Adalis Avessi arrivato Nel momento 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 Dimmi se posso incontrare Lord Aru Ma noi sappiamo Dove è Lord Aru Questa mi sembra Sarà molta intelligenza Circa Sarà molto debole Forza Arguzia Non è molto furba Forza Aguzia Vado di fretta Perciò fare meno Delle buone manie Prendete quello Che ti eserano Che lo fa Cosa è importante Danazione Eroi Da Costituzione Dica che non glielo avresti chiesto Non fosse tutto necessario Sicuro di avere buone intenzioni Comodo avere la persasione alta Molto comodo Così saltiamo tutto Così saltiamo tutto Forse Maran Quando faremo Modalità A livello Gran Master Dungeon Master In gruppi Come caspita Si chiama Potremo Sicuramente Potenzieremo al massimo Ancora la persasione Sicuramente Leggrino devoto Void 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 Leggrini Dipinto religioso Zandalor Zandalor Aspetta Zandalor Era Il mago Era un mago Se era un mago Nel primo Mago di qualcosa Che non mi ricordo Lucian E Damian Damian Non lo so Il grande war L'ascensione di Lucian Zandalor Cas primordiale Zandalor Si è Il primo Divinity Perchè è un museo lungo Persona puzzolente Puzza di marcio Guardate che ho sentito Molto parlare di Lord Aro Una questione urgentissima Oh oh Johnny Johnny Subscriber Attenzione Grazie mille Johnny Grazie mille Soprattutto 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 Madeline Ha visto il suo padre In giardino Con uno strano Gatto Che aveva cosa Che fa con Aro Figlia di Aro Figlia di Aro Madeline Era quella del te Non mi ricordo più Dai Giova di V Lineart E Tekken Poi Allendite con Tekken Con Osama Intanto Dove mi arano Mondi viniti Ma te facendo Fanno sottofondo L'ha capito L'indica Una protesta Di livello Cosa c'è Oltre Una questione Urgentissima In canale Il Lord Aro Charlie Aveva una palla Con uno lanciato Fuori da una finestra Perché non arriva La sua palla Fuori da Gallina morta Cosciotto di pollo Vabbè Mi prende un porcini Nel santuario Te l'ha lanciata fuori Da una finestra Ascuro Ma che Sono entrate Da dentro Offri una paghera Lucian La palla sembra di Echo In un hollow Spesso In dentro Può Lucian Riturri Può Riturri Inoltre Ringraziamento A Ossob94 Mi sa che Quel ringraziamento E' un po' Stupido Come roba Ossob94 Il migliore Si si Il migliore Ha Finito il game Non ritorna più In gioco Basta Lo sa bene Lui Altro che Amadia Zorstissa Figurata come un driver Che senso Che senso Non è altra cosa Da riscattare Altre robe No Più di quel Posso modificare qualcosa Effettivamente Però Cos'è Dove Oh What Aspetta Che faccio A rubare Sta roba In mezzo La gente Un'altra cosa Da riscattare Quei punti No Per ora No Dovrei diventare Partner Per avere altre Roba Migliori O roba Farmi roba Personalizzata Ma qui C'è troppa Gente Come faccio Rubare Cioè Rubare Mettere le mani Nello scomparto Non posso Oh Calma Amico Mi piace questa stanza Orca Che che ha aperto Mi sono spaventato Lo scogliato Che ha aperto La porta Mi sono spaventato E ho detto Una guardia E è venuta A prendermi Cavaccao Il scogliato Che apre Il coso No Perché ho preso Il scato Il scato Il scato Il scato Ria Mi sono Magro Di Il fusion Il della Perché è libero Le scato Pog... Pog... Pog Charizard Che avevano fatto i cosi di Pokémon Pezzo di carta Guarda i scherimi? Fanno un cavolo dal giorno Scribano tutto il giorno Prelato divino E questo? Dove? Ah, sto tizio con la Dramalik E' esploso Incoraggialo, sta combattendo la cosa giusta La colpa è di Dramalik e non la sua Non lo so Sì, sarebbero ancora vivi se non fosse per me Sono solo un'altra persona Magari c'era un altro modo Perfetto Non importa ora, credo Ho bisogno di fare questo E... Sono felice che sei qui per aiutare a vedere Beh, effettivamente Non ha più l'anima Quindi questa cosa non lo vediamo Effettivamente Vedo sangue I keep you in the boat Non ho rubato, eh Non ho rubato dalle sue tasche, quindi Chiedi se Aros è l'oggetto della sua sorveglianza MUST BE MUST BE PROTECTED Il giorno di Luciano non sarebbe la stessa senza la famiglia di rivoluzione per la sua rivoluzione Il più delle voce che sottolineano il nostro cuore, il meglio Ah, il pietro del sangue è una forma più avanzata di piscina Non lo consiglio, se non credi che tu sia liberato dal sangue E credo a me, nessuno è liberato dal sangue Ma tutto quel sangue da dove esce? Il pietro del sangue finisce in morte, per gli altri che l'ha tentato Consideratevi a dirvi Il signo suggerisce che se noi preghiamo abbastanza Luciano potrà tornare per salvare Ogni anno, ci siamo sottolineati per offrire le nostre preghe in suo nome Stiamo uniti, sperando che ci sia più di favore Il sentiero del sangue suona pericoloso E' stato la creazione del signor Ahu E' il giro del sangue, ovviamente E' il segno di rivoluzione La construzione lui stesso Non potrebbe aver fatto senza la scuola di Sanders E' abbastanza un talento per l'inginezione, questo Spendono la maggioranza del suo tempo Tinceremo con giochi di oggi E' una pietra Ma questo è il prezzo che paghi per il genio E' un' sia più di ci Ma io sono l'assun Ma io sono la città Ma io sono l'assun Ma io sono l'assun Noi ne ho pregato perché direi non farà il ritorno ma ci sono un nuovo divino da scendere ha cambiato basta è cambiato adesso si è fissato adesso che il nuovo divino riscenderà guardatevi gente sono benedetto benedico però non mi piace questo questo giro qua ha detto che chi ha il peccato scoppio esplode sinceramente non vorrei se ne è in mezzo mi piace molto stessi a me solo noi sappiamo la verità solution sono una riproduzione dell'inizio del primo passione mi piacerebbe che è felice una riproduzione dell'inizio della seconda passione è incredibile come la riproduzione dell'inizio della terza passione questo posto ha stato rinforzato Ahu's chambers hanno stato rinforzato grazie me ne accorgete adesso che sono arrivato che sono state saccheggiate queste cose c'è una riproduzione se ci sono la sua la sua Di che sto cercando d'Alice? Giuffo di pelo di gatto ma con tutta sta gente in mezzo? Se solo Lucien siamo qui... ...questo si è ancora in piedi e mi auguro lo stesso Lucien... ...questo da quando ha 11.000 di vita? Ma ovviamente, sarebbe... Noi non siamo blindi, sai... ...vi guardavamo quando hai scoperto per la nostra città... ...e ora lo scopro qui... ...questo il grande maestro non c'è niente... ...ma perchè parlano con Sibille parlano? Forse stavo spiando... Eeeh! Guarda quanti! Ma perchè mi arrivano tutti addosso con Sibille? E' il capo! E' Principe Rosso il capo! Non è lei! Si! Vabbè non ce la farò mai! Eh! Non mi importa se i 7 loro soli si avvicinarono a Revlon... ...e ti presentarono una invitazione di gold! Io sono l'autorità qui... ...e tu hai scoperto i tuoi strumenti! C'è che diciamo anche se adesso lo avevi già... ...lo avevi avvisato dai Magistri, ricorda? E quindi cosa? Vuoi che mi dici una medalla ora? Kem riuscì gli occhi e gloria... C'è sufficiente di questo! Ogni minuto del mio tempo... ...l'acqua è una minuta perduta nella scuola... ...l'acqua ti dimentica con un flicco di arresto... Puoi andare... Lord Kem riuscirà la volta a te... ...l'acqua è chiamata... No no, c'è qualcosa che ho ancora a chiederti... Parlami di Haru... ...ma quindi mi lasci andare? Puoi andare... ...e ci siamo riusciti i salvati... Si, ci siamo riusciti i salvati... ...che è più importante... Grand Master Ahu è morto... ...e deve essere tornato ai paladini... ...Aora, parli di spazio il mio tempo... ...e cominciare la tua scuola... ...e... ...e... ...la... ... 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 2, 1, questo. Niente, niente. Sì, tutti su di lei, cane. Oh, ho sfruttato il minore sul demon e il minore. Come mi ha levato 1.3. 1.3 mi ha levato. 2.400 di vita, perso. 3.400 di vita, perso. 3.400 di vita, perso. 3.400 di vita, perso. Niente, non ci arrivo, eh. Ogni volta con sto coso. Un cane che salta è la via. 3.400 di vita, perso. 4.400 di vita. 4.400 di vita. 5.400 di vita. 6.400 di vita. a i 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 okay okay man okay man i tutti nell'angolo eh i se fa male no 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 acabo messa l'angolo i oh 47 48 mila aveva dentro ok questo mi piace roba da vendere barriere defrettente roba da vendere insomma ho fatto fuori una tana di demoni ho fatto fuori una tana di demoni ho i guanti ho ancora la modalità baratto c'è interessante qua siamo quasi livelli 20 eh quasi ma anche non livelli 20 quelli lì ci arono lo stesso ci arono secondo me questa questa sensazione io questa strana sensazione io veramente non so se questa è legata a qualche missione secondo me no è una roba aggiuntiva in più però invece di 150 mila c'è stato quasi 50 mila io direi che sono più che soddisfatto sinceramente come si dice meglio non essere troppo avidi eh come si dice nazza d'unola destrezza intelligenza cacciatore brigante vediamo io ho comprato qualcosa anche per lei brigante 2 che è buono però brigante è buono anche per il cacciatore movimento 0 1 destrezza intelligenza chi è che è va menz non fa intelligenza si bille questo io lo ho di destrezza destrezza eh faccio tutto il livello di destrezza io purtroppo quindi di intelligenza è una roba in più e io lo do ai va menz perché maia dell'opalisciente è abbastanza indietro come armatura potente è buona buona veramente buona questa qua è veramente buona più figlia si più bella cacciatore 10 più uno cacciatore 55 da sopra elevato no mettiamo gli danno a noi voglio danno 20 danno in più eh sì buono 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 mi piace mi piace almeno una gioia in questo gioco anzi in questa zona di arcs una gioia grazie ok un pugnale buono un pugnale buono per usare contro i tizi qui la della nebbia mortale molto buono c'è nient'altro qua dentro questo gatto via lì va per la stanza via lì va per la stanza c'è lì a pro da sopra Dottore da Eva Forse si poteva far parlare Lei in riguardo al dottore Deve ricattarla forse Probabilmente immagino chiede informazioni Purtroppo non l'abbiamo fatto fuori prima C'è sta qua fuori raccogliere il quadro da dentro va bene Ok Non c'è niente altro Ripulita la zona E zona ripulita E sciti fuori con una bella armatura Iba Mense Che adesso sembra più cazzuto Questo tizio Forte e sicuro Andiamo a fare una visita al giocatolaio Prima perché Andiamo a vedere sto giocatolaio Cosa Borsa livello 18 Ah vabbè Ho fatto lo primo sto giocatolaio Non mi fai muovere i muratini Ah era questo Sanders Se tu puoi progettare la via del sangue C'è tutto progettare la via del sangue Now I'm the last one alive The last engineer of the cathedral and its secrets I've retired and found a new calling These wondrous darlings One of my late colleagues designed them for the cathedral Little wind-up sentries to guard against intruders Now I busy myself turning the surplus into toys It truly feels good to spread a little joy in my twilight years Dimmi qualcosa e guarda la cattedrale a tombo di luce It is a feat of engineering A modern marvel unmatched in quality anywhere in the realm I should know as it is my greatest work to date But you should broach more practical matters with lord protector Ahu The keeper of the cathedral You should find him in his chambers there I don't wish I could pass you Meeting? Are you quite certain? It wasn't too long ago that I spoke to him He mentioned that he was summoned to meet lord Kem at his home Official business regarding the tomb I suppose Whether the meeting took place I cannot say But lord Ahu must be found Can you help? I... I... I am not accustomed to leaving my home The outside is too much for me these days Maybe it's too much for you this time I want to to find him The outside is too much for me these days On the inside is too much for you to find him Per me ci vuole un consenso di Aru, questo qua, questo qua è amico di Aru, lui sa i segreti di come andare dall'altra parte Dai non c'è un piccolo fight che ho saltato da qualche parte La casa nera mi manca, ho questa però è sempre con la da Eva Il tiro dell'erenita Non ho molte, non ho molte chance nel senso, ho molte strade a fare Alarm! Alarm! Intruder! Alarm! Bitch papa! Alarm! Alarm! Intruder! Non dovresti essere qui, solo cosa pensi che stai facendo? Mi sono perso Io credo che stai nascondendo qualcosa L'unica cosa che sto scendendo è il mio desiderio di insegnare a un traspasso o una lecce E sto facendo un'increzzante po' di lavoro, ora rispondimi Sei un cacciatore, non hai tanto forza Forza, dimmi! Dimmi cosa sai tu bestia Mi sono scordato, e non mi lascia mi percivalmi qui Ah Oh Caccia, ho sbagliato Che cazzo Boh, mi ha cacciato fuori Ok Ok.